E da Torri Annunziata questa mattina ce ne andiamo a Nola, a Casa Expert, dove ci sono gli amici di Expert Parente Nola che subito vogliono parlarci delle loro straordinarie offerte e presentarci il loro store. Vedo già collegato il direttore Nello. Buongiorno Nello! Ciao Luca, buongiorno! Come stai? Alla grandissima! Insomma io mi sento a casa quando ti vedo perché io e te ci vediamo spesso, tu sei a Nola ed è bello vederti. Cosa ci presenti stamattina amico nostro? Scusate Luca, la prima cosa, finalmente si vedono un po' di belle giornate, un po' di sole e speriamo che sia un sole che continuerà a splendere per tutto il periodo e per tutta la nazione. Ce lo meritiamo, ce lo meritiamo. In virtù di bel tempo voglio presentarti in proporzione, anzi te la faccio presentare dal collega Giuseppe del ripasso audio-video. Benissimo, allora io lo faccio subito entrare in diretta. Buongiorno Luca, buongiorno a te e a tutti i tuoi radiospettatori, buongiorno. Prima di Giuseppe volevo far concludere al direttore perché lo sento sempre parlare poco e mi fa piacere poterlo ascoltare. Prego direttore. No, volevo dire che questa nuova promozione che stiamo promuovendo in questo periodo, abbiamo degli omaggi veramente consistenti e degli omaggi che possono essere sentiti in queste belle cose. E questa ora lascio la parola a Giuseppe che ti sento nella promozione. Allora grazie direttore, buona giornata. Ciao Nello, ciao Nello. Giuseppe sei tutto nostro. Eccoci, presento una grande promozione per tutto il mese di marzo che abbiamo nei nostri negozi. Sui prodotti Samsung a partire da 1999 consegniamo il televisore gratuitamente. C'è la possibilità di pagarlo in 30 mesi a tasso zero e in più regaliamo questo fantastico monopattino spillo, non so se si vede, del valore di 300 euro. Abbasso un po' di più il telefono così lo vediamo bene. Del valore di 300 euro, sì. Monopattino di 300 euro regaliamo a tutti i nostri cari clienti. Senti Peppe, ma se io vengo, mi prendo il monopattino e mi metto la televisione sotto un braccio, c'è la faccia e arriva a casa. Eh, penso di sì, ce la puoi fare, dai. Questo viaggia tantissimo, questo monopattino, è velocissimo. Ricordiamo a tutti gli amici di Expert Casa Expert, in particolare oggi Expert Parente, che voi siete all'uscita di Nola, giusto? Sì, all'uscita dell'autostrada di Nola, sì. Se sbagliano la curva vanno nel negozio i clienti quando escono all'uscita dell'autostrada. Speriamo non la sbaglino ma che ci entrino volontariamente. Giuseppe, grazie mille per essere stato con noi, ci ritroviamo. Quando vuoi di più, noi ci siamo. Grazie, grazie anche al direttore. Ciao Giuseppe, ciao Nello. Ciao Luca, buona giornata.